Bentornati a Patchwork, ciao da Valentina ed oggi proveremo a realizzare delle lanterne per Halloween. Abbiamo bisogno di barattoli di vetro, della garza che troverete facilmente in farmacia, delle piccole candele come queste e di occhi autoadesivi. Cominciamo! Primo passaggio dobbiamo avvolgere la garza attorno al barattolo di vetro. Grazie a tutti! Rivestiti i nostri barattoli con la garza, adesso passeremo ad incollare gli occhi. Infine inseriamo le nostre piccole candele all'interno. Queste sono le nostre lanterne accese, provateci anche voi, vi aspettiamo alla prossima puntata di Patchwork, ciao!